La verità! Ma sì, certo! E chi c'era con te? Signor Commissario, una notizia... Ma non è vero, non le creda! Oddio, c'è in gabbiano! Lei passa a silenzio! No, no! Ah, no, se permette, adesso parlo io, eh! Eh, no, parlo io! Perché mia moglie, con la sua bugiola, voleva nascondere purtroppo un'incresciosa realtà! Ma io qui, in presenza di tutti, ci rinuncio e me ne frego! Mi rimangio un'altra volta quello che ho detto e grido al mondo la verità, purché trionfi la giustizia! Quella notte, signor Commissario, in camera con mia moglie non c'ero io, ma Gastone dite... Ma che cosa faccio? Non mi rimangio un criminale! Io ero nella camera di madame, ho sentito i passi e sono scappato dalla finestra, arrivato sulla terrazza, sono entrato in una stanza e per una scala di servizio, sono sceso in giardino e sono uscito dal cancello che era fermo! Sono andato al bowling dove mi hanno visto molte persone! È falso! È falso! No, 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 è lui l'assassino! Se avevo detto di lasciarmi parlare, avrebbe fatto meglio a non infangare l'onore di sua moglie! Perché l'assassino non è per niente, ma proprio per niente, signor Gaston Ledoux! No! No! Fate entrare! Stammi vicino, cara! Lasso la manica! Polegorn!